L'assessore Paolucci dice che i precari dell'ASL Terramanoma devono stare tranquilli perché rientreranno in questa fase di riassorbimento da qui ai 18 mesi, ma è così o no? Sì, ricordiamo che c'è una norma un po' troppo generica, ma una norma di legge che dice che le pubbliche amministrazioni debbano avere una spesa del personale pari al 50% di quella del 2009. Ok, questa è una norma che si dovrebbe applicare a tutte le pubbliche amministrazioni, ovviamente non tiene conto, come spesso accade in Italia, della specificità della sanità, del settore sanitario. Nel 2009, peraltro, Terramo, a differenza di altre ASL, anche a Bruzzesi che era, lo è ancora, ma era un ASL virtuosa, quindi aveva poca spesa del personale a tempo determinato. Dovendo abbassare del 50% quella spesa, oggi ovviamente va in enorme difficoltà. In enorme difficoltà si bloccherebbero, non i LEA, si bloccherebbero i servizi. La legge però c'è, e allora l'ASL deve ricorrere a ripari in qualche modo pur di non compromettere fondamentali servizi. L'unica strada per adesso resta quella delle proroghe. Significa che qualche difficoltà ci potrebbe essere, comunque tendenzialmente ci sarà per la maggior parte dei casi una serie di proroghe del personale attualmente a tempo determinato o interinale. Forse non si riuscirà a coprire tutto, però insomma la nostra intenzione è quella di evitare disagi al personale e all'utenza che di quel personale ovviamente beneficia. Ma che percentuale sarà, direttore? Ma noi non riusciremo ad arrivare alla fine dell'anno con il 50%, probabilmente arriveremo con una percentuale del 70% di quella spesa. Quindi le riduzioni di personale, qualcosa ci sarà, sarà minima, qualcosa ci sarà per forza. Le parti a rischio quest'estate? Ma l'estate è un problema a sé stante, se non si possono fare nuove assunzioni a tempo determinato, come spesso accade d'estate ed è una specificità della sanità, facciamo l'esempio, il Ministero della Difesa non fa assunzioni a tempo determinato d'estate, la sanità sì, però la norma che ci ha dato questo bravissimo legislatore, il legislatore nazionale, ci dice che sono uguali il Ministero della Difesa e l'ospedale. Ecco, chiaro che ci sarà qualche difficoltà. Come ne affrontiamo? Forse i direttori generali di tutte le asla abruzzesi dovranno prendersi qualche onere in più anche di responsabilità per fare atti. Grazie. Grazie.